Sette cose che un Travel Influencer fa sempre. 1. Scatta molte foto. Un Travel Influencer deve scattare molte, tantissime foto per documentare il suo viaggio e creare i contenuti per i social. 2. Utilizza appunto i social per condividere il viaggio, facendone lo strumento principale per raccontare le proprie esperienze. 3. Cerca esperienze autentiche. Un Travel Influencer cerca sempre di creare contenuti che siano veri e coinvolgenti per i propri follower. 4. Interagisce con il pubblico. Sempre molto importante per sentirsi parte di una community. 5. Collabora con altre persone e marchi. 6. Pianifica il viaggio con cura. 7. Utilizza la tecnologia per migliorare i contenuti.